Hello there! So che tante di voi sono interessate alla mia cura delle unghie e proprio stamattina mi è arrivato il Velvet Smooth Kit Perfect Nails della Sholl e mi ha anche chiesto di partecipare alla Wow Challenge quindi ho approfittato per prendere parte a questo challenge e farvi vedere anche come curo le mie unghie Oggi sono a Milano e sto facendo una giornata di shopping perché sapete che mi piace tantissimo Voglio provare il kit su strada e vedere quanto sia veloce la cura delle unghie quando si è in giro e quindi vi lascio al video Questo dolce ha il cioccolato e il pistacchio mi piacciono tantissimo e lo prendo sempre quando vengo qui perché è buonissimo Qui devo assolutamente entrare è una vetrina bellissima chissà dentro quante cose ci sono Volevo farvi vedere questa calamita che ho trovato è bellissima perché ha tutti i dolcetti quindi non vedo l'ora di metterla nella camera Ok, ho finito lo shopping, sono soddisfatta adesso tocca alla Wow Challenge e consiste nel fare la cura delle unghie in 3 minuti Ho già montato la prima testina che è una lima e serve per levigare le unghie e dargli la forma io ho scelto di dargliela molto naturale perché mi piace un sacco così quindi adesso faccio partire il timer con il telefono e quindi non vedo l'ora di metterla e quindi non vedo l'ora di metterla La seconda testina invece è per levigare e quindi togliere le imperfezioni che ci sono sulla superficie dell'unghia però bisogna passarla per massimo 15 secondi e quindi non vedo l'ora di metterla La terza testina invece è per lucidarle e dare l'effetto dello smalto trasparente La differenza si nota subito perché le unghie sono davvero più lucide ma adesso devo mettere anche l'olio per nutrire sia le unghie che le cuticole ed è ricco di oli essenziali Fatto! Sono passati 3 minuti e quasi 4 secondi quindi direi che la challenge è stata superata e questo è il risultato Adesso voglio sfidare con la wow challenge la youtuber Sweet Asa Candy e la blogger Rock'n'Mood ma anche tutte voi quindi fatemi sapere se volete partecipare e ci vediamo al prossimo video Ciao!